Sì, bingo, sono un nuovo video Allora, finalmente Cioè, non doveva uscire questa cosa Però, finalmente le ho comprate ieri E cioè Ho comprato su Amazon Quello che dicevo da una vita da comprare Che a Natale o al mio compleanno Avrei comprato questo, il mio compleanno è già passato E poi fare una festa al 5 Però, sono dei tagli E quindi, allora Finalmente ho comprato delle cuffie Che tipo, cioè Veramente le mie cuffie Le cuffie che avevo ora, io Erano queste Che tipo, si sono rotte perché qua il cavo Non, cioè, tipo, si è Storto, cioè, è diventato storto E adesso Questo qui, è quello rotto Cioè, quello dell'audio fa veramente schifo Perché, cioè, si è, tipo, fatto delle robe Sarà stato schiacciato, non lo so E poi quello del microfono va, ma tanto Il microfono l'ho già E mi sta arrivando uno nuovo E, cioè, finalmente si compro le cuffie Allora, vediamo un po' Eh, sono veramente Cioè, ci ho messo un po' a trovare delle cuffie che mi piacevano Queste mi piacevano veramente tanto Che sono veramente, veramente belle Non mi serveva il microfono Non mi serveva il microfono, però Non ne trovavo alcuni senza il microfono C'erano tutti con il microfono E anche se a me non serve E queste mi facevano veramente, veramente tanto E, cioè, visto che mia sorella ha preso E si è scritta Amazon Prime gratis per 30 giorni Così gli arriva oggi Che, grazie, adesso arrivano Avrivano oggi le cose Bene Ma, non tutte Perché, bambina, abbiamo Amazon Prime Ma non è tutta Amazon Prime Quindi queste arriveranno oggi Che per me è il 4 E poi voi dovrebbe essere il 4 Ok, quindi Le cuffie ce le abbiamo Ora, andando indietro Allora Vabbè, queste qui sono Sono Non sono miei, sono di mia sorella E Allora, finalmente L'ho comprato Il Blue Yeti Cioè In realtà non ho comprato il Blue Yeti L'ho comprato usato in altre condizioni Perché Il Blue Yeti era scontato una volta a 100€ Non lo trovavo più a 100€ Perché Sarà finito lo sconto E quindi Ho dovuto comprare Quello usato Ma Ho tipo L'ho usato in altre condizioni Costava tipo 30€ in meno E quindi Vabbè, ho risposto a 30€ Il microfono c'è Ha delle opzioni Opzioni per lo stereo Che per le voci singole Oppure per il canto Cioè Se devi cantare o suonare Poi c'è il cardioid Che È quello che Non c'è È quello che dovrò usare io Il cardioid Che sarà Cioè Serve per fare Musica Anche questo Però È perfetto per me E quindi lo userò In pratica Di lui ricevere l'audio Quest'opzione Farà Ricevere l'audio Soltanto dalla direzione Che faccio io Che voglio io E quindi Farà sentire soltanto la mia voce E non altri rumori di sottofondo Che è quello che È quello che Stavo cercando Non voglio rumori di sottofondo Poi ho comprato in più Cioè Questi non li ho comprati Ho comprato in più anche Allora Indietro ancora Ho comprato Ho comprato Il coso per il pop up Che in pratica Fa Quando Tu quando parli In pratica Di solito Quando dici la B E la P Credo Ti fa Ti fa Non lo so Fa fastidio Fa un rumore Che è molto fastidioso E quindi Ho comprato Questo a 8 euro Che però Veramente Perfetto Cioè Mi piace Il bluietti L'ho comprato nero Ma non credo Che vada molto bene Con il verde Ma a me piace il verde E l'ho comprato verde Quindi Mi piace un sacco Sta roba Quanto Sei bello Cioè È veramente bello Il verde Sinceramente Volevo dire Soltanto questo Che l'ho comprato Finalmente Quindi vabbè Spero Che miglioreranno Molto il canale Sicuro Le cuffie Miglioreranno Le mie orecchie Cioè Veramente Le mie orecchie Adesso Ci saranno distrutte E il microfono Cioè Migliorerà Un sacco l'audio Ma poi Anche Cioè L'unica cosa Che mi manca Ora da comprare È la nuova Cioè La nuova webcam Che questa Fa schifo Tipo È tutto pixelato Quindi Comprare una nuova webcam Credo a Pasqua Quando Non lo so A Pasqua A Natale O il prossimo Natale Però la comprerò E non vedo l'ora Che so già Quale comprare E quindi Aspetterò Che arrivi Cioè Aspetterò Di comprarla Io ci sono venute Vado a dire Soltanto questo Vabbè Io direi che vi faccio Qui Ciao 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 Grazie a tutti